I tifosi è una cosa incredibile, quello che hanno fatto l'altro giorno al Stadio Franchi e sempre mi fanno emozionare. Io non vado lì se non mi ammazzo, mi ammazzo nel senso che all'età mia non posso fare, l'altra volta ricordate quando sono venuto qui a fare i conti con Ristic, quello 35 anni che aveva, mi diceva a me come si devono fare le cose. I tifosi sono tutti, noi stiamo facendo tutto questo che stiamo facendo per i tifosi, perché siamo in vita con i tifosi e per i tifosi. Se i tifosi non ci sarebbe niente.